Anticipazioni Amici 2018 Serale, svelati già i concorrenti eliminati dalla gara? Amici 2018 Anticipazioni, sono stati svelati i nomi di tutti i concorrenti ammessi al serale? Mancano pochissime settimane al debutto del serale di Amici 2018, in televisione su Canale 5. . Le anticipazioni ufficiali rivelano che la prima puntata di questa nuova fase serale del talent show andrà in onda il prossimo sabato 7 aprile alle ore 21.15 circa. . In questi giorni allinterno della scuola si stanno svolgendo i nuovi esami che serviranno a decretare i nomi dei concorrenti che verranno ammessi alla fase serale dello show di Canale 5. Svelati già i concorrenti eliminati dal serale di Amici?. . Eppure in queste ultime ore in molti hanno notato un gesto particolare da parte del nuovo direttore artistico del serale di Amici 2018, Luca Tommassini, che su Instagram ha seguito nove degli undici cantanti che sono attualmente allinterno della scuola più famosa dItalia, quasi come se avesse dato unanticipazione su quelli che saranno ammessi alla fase serale dello show. . Nel dettaglio, stando agli spoiler che ci ha fornito il direttore artistico Luca Tommassini su Instagram, dei cantanti in gara di questa diciassettesima stagione di Amici, i due che non dovrebbero essere ammessi al serale sono Luca Vismara e Grace Cambria. . Un indizio che non è passato affatto inosservata o tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi, i quali hanno subito ipotizzato che potessero essere proprio Luca e Grace i due cantanti di questa edizione a non superare lesame di sbarramento e quindi ad essere eliminati in maniera definitiva dalla scuola più famosa dItalia proprio ad un passo dalla fase serale che debuterà il 7 aprile su Canale 5. . Ecco i concorrenti ammessi al serale di Amici 2018. Fesse davvero così, quindi, significherebbe che i cantanti ammessi al serale ad Amici 2018,serebbero, Einar, Biondo, Carmen, Emma, Irama, Matteo Nicole, Thea Bezic. . . Attendiamo conferme nel corso delle prossime puntate del sabato pomeriggio di Cancelletto Amici 17 dove scopriremo finalmente i nomi ufficiali dei concorrenti che sono stati ammessi alla fase più importante dello show che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto. . Intanto le prime anticipazioni di queste ore sul serale di Amici 2018 rivelano che questanno cambierà nettamente il regolamento del programma. A quanto pare, infatti, Maria De Filippi ha deciso di eliminare dal serale i direttori artistici ma anche i giudici. . . . . .